E' previsto in questi due giorni tra il 18 e il 19 luglio il picco di questo caldo estivo, perlomeno di quello registrato finora ed è un momento molto dedicato soprattutto per le categorie più fragili come gli anziani, una categoria seguita particolarmente dal Lauser che in questi giorni sta ricevendo diverse richieste in tal senso. Sì, abbiamo già con una progettazione provinciale e nazionale con i nostri dirigenti previsto per quest'estate queste situazioni e ci siamo attrezzati per implementare servizi che già facciamo ma per metterli a disposizione in questo momento in maniera ancora più efficace visto il caso che non escano gli anziani, le persone fragili e anche i disabili con queste temperature e quindi cerchiamo di andargli incontro in ogni modo possibile supportandoli su quelle che sono le necessità impellenti. Necessità impellenti che ci sembra di intuire che si riferiscono nell'evitare al più possibile gli spostamenti o comunque di agevolarli con degli accompagnamenti? Sì, soprattutto per fare la spesa, per fare visite che in questo momento sono anche necessarie per questa categoria cerchiamo di evitare di fargli prendere i tram che solo l'attesa o comunque il trasporto è un percorso complicato per una persona che ha fragilità e quindi gli anziani in particolare e poi anche tutto quello che può essere l'emergenza farmacia, l'emergenza di altre tipologie di servizi che possiamo dare. A volte anche lo stesso supporto in casa perché magari sono soli e non potendo uscire hanno bisogno di parlare con qualcuno anche con il telefono amico, quindi facciamo anche chiamate mirate per tenere un po' compagnia le persone e poi cercando di farli uscire nelle ore più fresche e non farli andare, ad esempio quelli degli orti sociali nelle ore più calde della giornata perché lì è veramente deleterio, oltre alla fatica del far l'orto andare a temperature di 35-40 gradi è assurdo, quindi cerchiamo di fare un po' di prevenzione e un po' di interventi mirati su queste cose. Queste categorie come fanno a rivolgersi a voi? Allora, mediamente ci trovano perché abbiamo un buon radicamento sul territorio sia di circoli Pesaro ad esempio ne ha 4 più il provinciale, sia di associati, solo a Pesaro siamo oltre 1000 associati e quindi c'è il passaparola e comunque i nostri presidenti sono sempre raggiungibili o nelle loro sedi o comunque nei punti di ritrovo e quindi il passaparola funziona moltissimo in questo momento addirittura c'è qualcuno che ci segnala situazioni che conosce che magari né l'amministrazione né noi potremmo venire a sapere. Quindi diciamo che la rete dei cittadini, la rete delle associazioni sta funzionando anche con le altre associazioni ci stiamo interfacciando e costruendo un servizio per il cittadino fragile il migliore possibile.